isolato fra i castagneti a 810 metri di altezza il convento di santa maria dei lattani a rocca monfina fu fondato nel 1430 nel luogo dove secondo la tradizione un pastore aveva trovato una statua della vergine nascosta molti secoli prima per proteggerla dalla furia iconoclasta il primo edificio fu voluto da san bernardino e da san giacomo della marca poi papa eugenio iv affidò ai francescani il complesso monastico nel 1446 dove ancora oggi risiedono notevoli sono il chiostro a pianta rettangolare con affreschi nelle volte interne ogivali intorno al quale sono distribuiti locali che ospitano i pellegrini il refettorio decorato d'antiche spalliere di maiolica nella chiesa dal maestroso portale con bassorilievi romanico gotici e dalle volte ogivali sono conservate la statua della vergine col bambino in pietra policroma e un crocifisso ligno medievale poco distanti vi sono la cappella di san bernardino e la grotta dove fu rinvenuta la statua della madonna